Sapessi com'è stato difficile stare senza di voi? Senza una casa? Senza una cameriera? Pensa che ho preso una dermatite perché usavo il sapone per i piatti per lavare. Potevi prendere una cameriera? Ti ci sei avvicinato, ma non abbastanza. Comunque, io ti sogno. Sì. Sogno. Sogno. Sogno, vi facciamo amore. Sì. Chi è te? Sì. Ma non sul letto. No, no, no. Lo facciamo. Lo facciamo qui. A terra. A terra? Su un pavimento. Nella tua stanza. Questa era la tua stanza, vero? Non era la mia stanza. Era la stanza di Viola, cretino. Eh, vabbè, stanzi io, ma sul pavimento, vieni qua. Mi sogno. Scegli amore. Pure io ti sogno. Ma che ci sogno, con i bamboli? Eh? Ci sogno, 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 sogno che ti corco di botte. Ti corco di botte. Sogno che ti corco di botte. Ti corco di botte. Ti corco. Ti faccio pestare, ti faccio pestare dal mio avvocato che sta arrivando. Sta arrivando, sta arrivando con tutti i documenti del divanzo. Ma qual è l'avvocato? Chi è questo? Chi è? Oddio. Oddio, il pre-infarto. Chiamo un medico. Ci sei già tu come medico. Ma io sono ginecologo, che non so io.